Ciao a tutti amici del Sopils e benvenuti a questa nuova puntata della domenica, puntata nella quale continueremo a parlare dei sensori per astrofotografia e in particolare scenderemo in un argomento molto molto importante quando si sceglie una camera per fare fotografia astronomica ed è quello della matrice di Bayer, ovvero poi ci porterà ovviamente a scegliere tra una camera colori e una camera monocromatica. Ora nel dettaglio o meglio nelle differenze principali tra camere monocromatiche e OSC, quindi One Shot Color Camera, ne abbiamo parlato in una puntata dedicata e vi lascio la scheda in alto quindi se volete approfondire questo argomento andatevi a vedere anche quel video, ma nello specifico in questa puntata entreremo un po' più nel dettaglio nella matrice di Bayer, quali sono i vantaggi che conseguono dal possedere, dal fatto che un sensore possiede una matrice di Bayer, agli svantaggi e soprattutto anche come funziona questa benedetta matrice di Bayer. Ma come sempre ragazzi prima di lanciarci con questa puntata domenicale vi ricordo che se volete supportare la causa di AstroPills e della mia divulgazione astronomica astrofotografica di iscrivervi al canale e cliccare sulle campanelle in basso per attivare le notifiche. Invece se volete seguirmi sulle varie pagine social Facebook, Instagram, iscrivervi al canale Telegram o guardare i miei scatti su Astrobin trovate tutti i link in descrizione, come trovate il link ad Oracle, l'applicazione per fare astrofotografia che da un bel po' di mesi a questa parte adesso è a disposizione sul Play Store e anche online al sito oracle.io. Ma partiamo con la puntata di oggi, mentre scorgo in lontananza, una piccola parentesi, è stato bellissimo questa settimana il cielo qui, ho avuto l'occasione di poter fare un po' di fotografia, avevo anche cominciato a registrare una puntata dove fotografo M106 ma diciamo non ho fatto tempo ancora a elaborare i dati e quindi probabilmente slitterà alla prossima settimana. E quindi invece adesso vedo che il cielo sta drammaticamente cambiando, vedo che dalla parte della magliella, dal versante occidentale, sta arrivando un bel nuvolone nero e quindi sarà meglio che mi spicci un po' a girare questa puntata. Scegliamo quindi nel concreto e parliamo della matrice di Bayer. Che cos'è questa benedetta matrice di Bayer? La matrice di Bayer è qualcosa che serve alle camere, a restituire immagini a colore a partire dal segnale delle radiazioni luminose che arrivano mediante i fotoni sul nostro sensore. Questo perché nel momento in cui il sensore e i well, quindi i pozzi del sensore, vengono colpiti e vengono immagazzinati fotoni che poi a loro volta vengono convertiti in elettroni, il sensore non è in grado di discernere quale sia la lunghezza d'onda di questi fotoni, arriva una particella fotonica, va sul sensore e registra la carica elettronica, ma in realtà non sa se quella lunghezza d'onda era del rosso, del blu, del verde, quindi non ha un'informazione cromatica, ma ha un'informazione di intensità del segnale. Quindi nessun fotone colpisce il sensore, è completamente nero, man mano che i fotoni vanno a colpire o vanno a entrare nel pozzo del sensore diventa sempre più chiaro fino ad arrivare al bianco e a saturarsi e a non raccogliere più informazione. Quindi che cosa hanno pensato? Per poter essere in grado di raccogliere l'informazione, o meglio di estrarre l'informazione di colore, sul sensore delle macchine fotografiche, quelle tradizionali che utilizziamo per la fotografia di urna, basta pensare alle Rayflex o anche alla GoPro che sto utilizzando adesso per girare questo video, davanti al sensore c'è una matrice di filtri, ciascuno di questi è un filtro interferenziale che decide di far passare o che permette o meno di far passare una determinata banda dello spettro luminoso. Nello specifico abbiamo tre tipi di filtri, abbiamo rosso, verde e blu e per una natura diciamo anche costruttiva i sensori hanno una natura di costruzione, chiamiamola, orizzontale, landscape e spesso non si prestano bene ad essere divisi per il numero 3 che rappresenta diciamo i tre valori RGB. Quindi questa matrice di Bayer a sua volta è formata da quadrati che seguono un determinato pattern e come ho detto ciascun di questi fotorese di storie, vi faccio vedere l'immagine che rende meglio l'idea, viene anteposto davanti al singolo pixel del sensore. Ora, come vedete bene dall'immagine, il pattern che viene eseguito dalla matrice di Bayer è un pattern di tipo RGGB. Ora l'ordine di questo rosso, verde e blu può cambiare a seconda della natura costruttiva del sensore e a volte anche da come vengono letti i file fits, perché piccola parentesi, a volte in PixInsight mi avete detto ho messo il pattern RGGB della mia camera che è il pattern che dovrebbe avere una matrice di Bayer della mia camera, ma PixInsight mi restituisce colori completamente sbagliati e ho dovuto utilizzare, che so, il pattern GBGR. Questo perché dipende anche da come vengono letti i fits. Alcuni fits vengono letti con un ordine da in alto a sinistra a scendere, altri invece possono essere letti anche da in basso a sinistra a salire o in basso a destra a salire, quindi anche questo può inficiare sulla scelta del pattern della matrice di Bayer quando lavorate nei software di elaborazione. Piccola parentesi chiusa. Detto questo, la parte che è fondamentale però cogliere che le componenti sono tre, ma un componente ripetuto due volte, ovvero il componente verde. Perché? Perché per replicare il comportamento dell'occhio umano, questo l'ho detto già in altre puntate, il componente verde anche per una natura storica, biologica del corpo umano è quello che all'uomo ha sempre permesso di catturare il dettaglio e soprattutto anche in antichità, tantissimi anni fa, di riconoscere i frutti e quindi un elemento, il bastoncino verde è sicuramente la componente verde più sviluppata nell'occhio umano rispetto al rosso e al blu. Quindi per replicare la fedeltà d'immagine con quella vista dai nostri occhi all'occhio umano si è deciso di utilizzare questo patto RGB. Ora tornando un po' alla questione perché è bene avere una matrice di Bayer e perché invece non è una cosa buona comunque crea dei problemi. Il primo punto a favore sicuramente delle immagini RGB, delle camere RGB scusate, è quello che fate una fotografia parlando di astrofotografia, avete già l'informazione a colore, avete già un'immagine a colori, non avete bisogno di fare lo sbattimento che facciamo noi con le camere monocromatiche di acquisire il segnale per ogni canale quindi mettendo ogni filtro. In realtà la matrice di Bayer fa un po' quello che facciamo noi con i filtri RGB quando lavoriamo in monocromatica, semplicemente questi filtri sono già posti sul singolo pixel. Quindi ecco è sicuramente una camera più semplice da utilizzare che restituisce subito un risultato e diciamo che lavorando anche con tutte e tre i filtri RGB, tutte e tre le bande di colore contemporaneamente dà anche meno problemi a volte relativi ai gradienti che possono cambiare nel corso delle serate quando noi facciamo RGB e quindi ci possono essere colori che hanno dei gradienti o una risoluzione a volte anche superiore rispetto agli altri. Detto questo però il problema è un problema abbastanza importante, è questo qui che vi sto per dire adesso. Se voi ragionate bene nella fotografia notturna o comunque nella fotografia, chiamiamola macroscopica, i fotoni vanno a colpire il sensore in maniera caotica ma diciamo l'informazione anche del mio viso che adesso state vedendo nel video è composta da macro regioni, non ci sono dettagli così piccoli, informazioni così piccole che riguardano il singolo pixel del sensore. Quando invece facciamo astrofotografia, ad esempio pensate alle stelle o ai dettagli molto minuti, a volte i fotoni che portano a una determinata informazione di colore vanno a colpire il singolo sensore, che so il rosso di una stella o il blu, il verde un po' di meno perché il verde probabilmente è il colore meno presente tra quelli che fotografiamo noi nell'universo. Ora che cosa succede se questo pixel rosso non cade sul pixel della camera che ha il filtro, diciamo il filtro di bayern rosso, ma ha quello verde? Ovviamente questo fotone non passa e quindi noi diremmo è un'informazione persa. Sì, in questo caso se non ci sono altre informazioni del rosso nei pixel adiacenti probabilmente è un'informazione persa, è un caso un po' limite perché diciamo un'informazione e vado a colpire il singolo pixel, generalmente per la natura caotica prima colpisce un pixel successivamente colpirà un altro, quindi questa cosa qui se già ragionate un po' i termini statistici è quello che va a determinare un po' anche un tipo di rumore diverso dell'immagine a colori, ovvero la variabilità dell'informazione presupposto il fatto che un'informazione, un fotone che porta una lunghezza d'onda del rosso possa colpire a volte il verde, a volte il rosso, a volte il blu. Ora come viene calcolato poi il valore finale del colore d'immagine? Perché ovviamente noi nell'immagine che poi verrà debayerizzata tramite determinati algoritmi e quindi la debayerizzazione si occupa proprio di questo e di poi determinare per tutte queste informazioni del sensore qual è il valore del pixel del colore dell'immagine perché non è che abbiamo dei puntini rossi, verdi, blu, rosso, verde, blu e così via. Alla fine ci restituisce diverse variazioni di colore, parliamo di milioni e milioni di colori. Questo avviene attraverso la demosaicizzazione, un termine un po' che sembra un po' non scegli lingua o debayerizzazione, italianizzando il termine inglese. Questa operazione di debayerizzazione comporta che leggendo i valori raccolti dal sensore e sapendo ovviamente qual è la matrice di Bayer che utilizza quella camera, si vanno a utilizzare diversi algoritmi di interpolazione o anche un po' più avanzati che vanno a leggere tutte le informazioni dei pixel circostanti, ovvero io prendo l'informazione sul pixel rosso e per determinare qual è il valore reale di quel pixel perché non posso leggere sul rosso, vado a mediare o vado a interpolare il mio valore con i pixel circostanti, quindi due verdi e uno blu. Questo rende anche evidente come il verde sia più favorito rispetto agli altri perché è più presente e è anche per questo che uno dei processi, ad esempio tornando sempre a PixInsight o comunque anche di altri software di elaborazione, ci sono processi che tendono a eliminare la dominante verde che è tipica delle camere combatrici di Bayer perché hanno il 50% di informazione del verde, 25% di rosso e 25% di blu. Quindi questa è anche un'altra informazione sulla quale vi invito a ragionare. Detto questo, la de-bayerizzazione si occupa proprio di questo, quindi andare a leggere il 5 pixel, andare a interpolare con i valori circostanti, con i pixel circostanti e ottenere un valore finale. Esistono diversi algoritmi, esiste l'algoritmo ad esempio di nearest neighbor, quindi il vicino, più vicino, cioè il nearest neighbor significa proprio questo, oppure bilineare, oppure c'è VNG che è quello che viene utilizzato spesso con PixInsight, è uno dei più robusti e più efficaci, ma non sempre, ne parleremo però anche questo in un'altra puntata perché vedo che già il tempo qui sta passando e ci vorrebbe troppo tempo, ma in sostanza dopo la de-bayerizzazione noi abbiamo un'immagine a colori finita, cosa che invece con una camera monocromatica avremo bisogno di acquisire rosso, verde e blu, poi andare a combinare, andare a fare la riduzione dei gradienti sui singoli canali, poi andare a combinare, insomma è un lavoro molto più elaborato, più lungo, più complesso e anche molto più sconciante perché poi c'è tutta la parte di calibrazione che triplica o quadruplica addirittura se prendete l'alluminanza il tempo rispetto a una camera OSC a colori. Quindi lo svantaggio però della matrice di Bayer nella sua prontezza di restituire subito un'immagine a colori è sicuramente quello che induce un rumore. Quando si pensa rumore, spesso si sente questa parola quando si parla di astrofotografia, il rumore non è solamente la grana o meglio il rumore non è mai la grana o quello che vedete nell'immagine o il disturbo perché quello è il risultato del rumore, cioè come si manifesta, ma il rumore in realtà è tutto ciò che dato un segnale, quindi un dato un'informazione, tutte le variazioni di quell'informazione che voi immaginate come se aveste un bersaglio e cominciasse a sparare con un arco, una pistola o quello che è, e volete colpire il centro. Cominciate a colpire il centro però nel mentre, vuoi per il vento, vuoi perché ovviamente il corpo umano non è una macchina perfetta, un roboi, quindi c'è sempre una legge variazione della mira, cominciate a colpire anche un po' intorno. Nel momento in cui voi volete sapere qual è il valore centrale di tutte le parti che avete colpito, che avete sparato, beh il rumore è tutto quello che trovate nella distribuzione dei vostri colpi che si allontanano dal centro del vostro bersaglio, quindi più rumore c'è, più variazione c'è, o meglio più variazione c'è e quindi più rumore c'è ed è più difficile determinare quale sia l'informazione reale che noi stavamo cercando l'informazione reale che dobbiamo poi mostrare a chi osserva l'immagine. Questo succede ad esempio anche con la matrice di Bayer perché determinando il colore di un singolo pixel e andando a fare l'interpolazione sicuramente introduce un suo rumore nell'informazione. Infine, l'ultima cosa è che spesso si vede nelle camere monocromali che ho visto anche sul gruppo di PixInsight, anche in privato a volte vi avete scritto che nelle immagini fatte con camera colori c'è un feromero che viene chiamato in inglese color model, ovvero se voi guardate bene il fondo cielo a volte si vedono delle sfumature di colore, dei cromatismi di colore che rendono il fondo cielo poco uniforme come se ci fosse un rumore, non come se ci fosse, c'è un rumore cromatico. Questo color model è tipico, diciamo, delle camere dotate di matrice di Bayer ma spesso si risolve con una buona riduzione del rumore, soprattutto sulla luminanza che va a desaturare e quindi a rendere neutro questo tipo di informazione. Insomma, ragazzi, qui non voglio dirvi o aiutarvi a decidere quale sia migliore tra colore e monocromatica, scusate, sto sbarellando oggi, è stato una giornata lunghissima, sono andato anche in montagna e il sole comincia a sentirsi anche nel cervello. Ma non voglio darvi una risposta su quale sia migliore tra una camera colori e una monocromatica anche perché vi rimando sempre al video che vi ho detto inizio puntata e soprattutto una cosa molto soggettiva che va valutata nell'insieme delle cose del tipo di astrofotografia che si vuole fare, delle capacità, del tempo che si ha a disposizione, un argomento molto più complesso. Però voleva farvi capire insomma che cosa è questa matrice di Bayer, come funziona, quali sono i pro e quali sono i contro a larga scala, ecco, perché poi ci sono tutta una serie di piccole sfumature che a mio avviso sono trascurabili a meno che non sia davvero pignoli e soprattutto si possono arginare con piccoli semplici accorgimenti. Uno di questi soprattutto è il littering che ci dà quello spostamento di pixel, di immagini, di campionamento del segnale di immagini che sicuramente ci aiuta a ridurre questo rumore, questo disturbo di cui abbiamo parlato in questa puntata. Infine ragazzi, ultimissimo appunto, ricordatevi sempre con la matrice di Bayer, la risoluzione dell'immagine a livello di spazialità di colore è ridotta a un quarto per il rosso e il blu e alla metà il 50% per il verde, perché ricordate il pattern RGGB, quindi vuol dire che ogni pixel ha un'informazione reale di quella emissione di colore rosso, verde o blu per il verde del 50% e del blu e del rosso rispettivamente del 25%, quindi anche questa è una cosa molto molto importante. A livello di quantum efficiency, quindi efficienza quantica, diciamo che le camere monocromatiche, la matrice di Bayer ha il suo impatto sull'efficienza quantica e le camere monocromatiche tendono ad avere un'efficienza quantica per l'appunto superiore. Quindi per concludere ragazzi, matrice di Bayer, croce e delizia di molti astrofotografi, ci può aiutare ad ottenere un'immagine a colori anche molto molto buona in poco tempo e soprattutto facendoci divertire e non avere troppo sbattimento, ma di contro per chi forse come me o come il mio caro maestro, amico Attilio e molti altri, è più avvezzo all'astrofotografia hardcore, sicuramente questa matrice di Bayer diventa un po' più una croce che una delizia. Per la futura di oggi ci fermiamo qui, vi ho parlato della matrice di Bayer, di camere a colori, come funziona questa matrice di Bayer, quali sono i pro, quali sono i contro, come funziona, insomma siamo entrati un po' più nel dettaglio di quello di cui avevamo parlato in un'altra puntata tanto tempo fa. Come sempre ragazzi, se volete dirmi la vostra, se avete una camera a colori o avete una monocromatica o se avete fatto il passaggio all'una all'altra, ditemi perché e come vi siete trovati nei commenti in basso. Io per questa sera mi fermo qui e come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro una buona serata, dei cieli sereni e ciao!